Nuovo appuntamento con Spazio Notizia, ben ritrovati su Sicilia 24. La cronaca in primo piano partendo da Marsala e dai controlli effettuati dai carabinieri, i controlli che hanno portato a sette denunce. Nel corso del fine settimana che si è appena concluso, i carabinieri della compagnia di Marsala hanno condotto un articolato servizio di controllo straordinario del territorio con il supporto dei colleghi della compagnia di intervento operativo del XII Reggimento Carabinieri di Palermo. Le diversificate attività svolte dai carabinieri hanno permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti di sette persone che sono state denunciate alla competente autorità giudiziaria per varie ipotesi di reato. In particolare i militari dell'arma hanno denunciato un 29enne poiché, secondo quanto emerso nel corso delle indagini, avrebbe sottratto generi alimentari da un supermercato del Marsalese, mentre un 55enne avrebbe violato gli obblighi per la custodia di beni di oggetto di confisca prefettizia. Altre due persone di 55 e 36 anni sono state denunciate poiché sorprese ad abbandonare rifiuti speciali in un appezzamento di terreno incolto. Durante i controlli alla circolazione stradale sono stati denunciati un 42enne e un 26enne trovati in possesso rispettivamente di un bastone in legno e di un coltello a serramanico di genere vietato e un 24enne che è stato sorpreso alla guida di un ciclomotore oggetto di furto. Sia il veicolo che le armi bianche sono stati sequestrati. Nello stesso contesto operativo sono state segnalate 7 persone alla prefettura di Trapani in qualità di assuntori non terapeutici di sostanze stupefacenti con il contestuale sequestro di 5 grammi di hashish, 1 grammo di cocaina e 3 di marijuana. Le indagini degli inquirenti proseguono al fine di raccogliere ulteriori riscontri investigativi. Controlli dei carabinieri anche a Catania, nello specifico controlli alle attività commerciali e ai parcheggiatori abusivi e anche qui sono scattate delle sanzioni. I carabinieri della compagnia di Catania Piazza Dante, supportati dal XII Reggimento Sicilia e in collaborazione con i colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania, hanno effettuato una serie di controlli nel centro città volti alla verifica del rispetto della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro nelle attività commerciali. Al termine delle verifiche, che hanno riguardato diverse attività che gravitano nei pressi di Piazza Vincenzo Bellini, Piazza Stesicoro, Via Antonino di San Giuliano e in zona Castello Ursino, i carabinieri hanno denunciato una 23enne catanese titolare di una macelleria per violazione delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Al riguardo, la donna ha omesso di sottoporre tre lavoratori presenti al momento dell'ispezione alla prevista sorveglianza sanitaria come giudizio di idoneità alla mansione, circostanza che ha fatto scattare una sanzione di 1.228 euro. Nei confronti della titolare è scattata anche la maxi-sanzione per lavoro in nero per un importo di 21.600 euro, poiché ha impiegato i predetti lavoratori senza la preventiva comunicazione ed instaurazione del rapporto di lavoro. L'attività commerciale oggetto del predetto controllo è stata temporaneamente sospesa dai carabinieri, che hanno anche proceduto al recupero di contributi previdenziali ed assistenziali per un importo di 4.500 euro. I militari dell'arma, nell'ambito del medesimo servizio, hanno individuato e sanzionato amministrativamente un parcheggiatore colto a impartire indicazioni di parcheggio agli automobilisti in piazza Manganelli. I controlli alla circolazione stradale effettuati dai carabinieri hanno consentito di identificare una quarantina di persone e di procedere al controllo di una trentina di veicoli con l'elevazione di sanzioni amministrative per un importo di quasi 10.000 euro e il sequestro fermo amministrativo di due veicoli. Restiamo a Catania per parlare dell'arresto di un uomo di nazionalità rumena accusato di furto aggravato ed evasione. Il personale delle volanti è intervenuto presso un locale sito in via Conte Ruggero poiché al suo interno alcuni dipendenti avevano bloccato un soggetto intento a rubare. Sul posto gli agenti hanno preso in custodia l'uomo un pregiudicato di nazionalità rumena il quale approfittando della momentanea assenza dei dipendenti era entrato nel locale riuscendo ad asportare quattro palmari nascondendoli all'interno di un borsone. Il soggetto subito dopo era entrato nuovamente nel locale e munito di un cacciavite aveva tentato di forzare la cassa venendo però bloccato dai dipendenti. Gli agenti hanno accompagnato l'uomo in questura e al termine degli accertamenti hanno accertato che lo stesso era l'autore insieme ad un complice di una serie di furti perpetrati nei giorni scorsi in attività commerciali del centro storico per i quali era già stato arrestato e sottoposto ai domiciliari nel comune di Gela. Già in passato inoltre l'uomo era stato allontanato da Catania con foglio di via emesso dal questore e di vieto di ritorno nel capoluogo etneo per tre anni. Il soggetto è stato nuovamente arrestato per i reati di furto aggravato ed evasione oltre che denunciato in stato di libertà per i reati di ricettazione e per aver violato il divieto di ritorno nel comune di Catania. E sempre a Catania gli agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto un uomo violento, uno stalker, il quale si era presentato a casa dell'ex fidanzata minacciandola. Il personale delle volanti è intervenuto in via Racuglia a Catania a seguito della richiesta da parte di una donna alla quale aveva segnalato la presenza dell'ex fidanzato dietro la porta della propria abitazione. Gli agenti hanno notato che la donna era particolarmente terrorizzata dagli atteggiamenti violenti e aggressivi dell'ex compagno il quale non accettava la fine della loro relazione. Il giovane già conosciuto per simili eventi nella nottata si era presentato davanti all'abitazione della donna cercando di sfondare la porta dell'appartamento. L'uomo nell'occasione aveva minacciato la donna e i condomini che tentavano di farlo desistere da tali atteggiamenti. Lo stesso era arrivato anche a minacciare di dar fuoco all'intera palazzina se la donna non lo avesse fatto entrare in casa. Il giovane accortosi della presenza della polizia ha provato a scappare ma è stato immediatamente fermato. Sottoposto a perquisizione personale, stesa alla sua autovettura è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico occultato nell'abitacolo del veicolo. Gli agenti hanno quindi proceduto al suo arresto per i reati di maltrattamenti in famiglia e porto di armi o di oggetti atti a offendere. Il PM di turno, anche in considerazione delle recenti violenze poste in essere nei giorni scorsi nei confronti dell'ex fidanzata, ha disposto di associare l'arrestato presso la casa circondariale di Piazza Lanza. Restiamo nel Catanese, ci spostiamo però virtualmente ad Acicatena dove due persone, madre e figlio, sono state fermate dai carabinieri. Erano infatti fuggite a bordo di un'auto rubata. La donna è stata arrestata, il giovane invece denunciato. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia 10 Reale hanno arrestato in flagranza una cinquantenne pregiudicata di Acicatena per i reati di resistenza pubblico ufficiale, lesioni personali, apporto d'armi ed oggetti atti ad offendere e hanno deferito il figlio, 25enne pregiudicato catanese, per i reati di resistenza pubblico ufficiale, danneggiamento e ricettazione. Nel corso di un servizio di contrasto all'illegalità diffusa nel territorio di Acicatena, i militari dell'arma nel transitare per la via Brolo hanno notato che un'auto che li precedeva aveva entrambe le luci di posizione non funzionanti. Nella circostanza i carabinieri hanno accertato che il veicolo risultava oggetto di furto e pertanto hanno intimato l'alt ma il conducente ha invece accelerato iniziando a sorpassare i mezzi che lo precedevano con il chiaro intento di evitare il controllo. Ne è scaturito un inseguimento lungo diverse strade del comune di Acicatena nel corso del quale il giovane al volante dell'auto con la sua guida spericolata ha messo in pericolo l'incolumità degli altri automobilisti e dei numerosi utenti presenti in strada. A un certo punto, nel bel mezzo della salita di via Michelangelo Buonarroti il conducente ha arrestato la marcia e aperta improvvisamente la portiera è sceso dall'auto ed è stato subito riconosciuto dai militari nel 25enne scappando e facendo perdere le sue tracce tra le viuzze limitrofe. Nel frangente uno dei carabinieri è sceso dalla gazzella per bloccare il passeggero dell'autovettura una donna identificata poi nella 50enne la quale era rimasta in auto sorpresa a sua volta dell'azione fulminia e inaspettata del figlio. Il mezzo nel frattempo lasciato senza il freno a mano dal 25enne ha iniziato a scendere giù per la strada e pertanto uno dei militari per scongiurare il danneggiamento di altri veicoli o il ferimento di pedoni presenti in quel momento si è adoperato per bloccarla ma nonostante ciò l'auto è andata a collidere contro alcuni veicoli danneggiandoli. Alla donna nell'uscire dall'auto è caduto a terra un coltello a scatto della lunghezza complessiva di 15 centimetri e mezzo circostanza che ha messo in agitazione la cinquantenne che si è opposta all'operato dei carabinieri divincolandosi e sferrando calci e pugni nei confronti degli operanti che sono poi riusciti a bloccarla. I carabinieri hanno messo la donna a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha convalidato l'arresto e disposto per lei la sottoposizione all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I carabinieri della stazione di Pachino nella Siracusano hanno tratto in arresto un pregiudicato di 42 anni per violazione della misura di prevenzione alla quale è sottoposto. L'uomo a cui il Tribunale di Catania ha applicato la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Pachino è stato sorpreso dai militari dell'arma nella località balneare di San Lorenzo del comune di Noto incurante delle prescrizioni che gli erano state imposte. Pertanto dopo le formalità di rito il 42enne è stato condotto presso la sua abitazione agli arresti domiciliari così come disposto dall'autorità giudiziaria. A Ficarazzi invece nel Palermitano i carabinieri hanno beccato e tratto in arresto due soggetti si tratta di due piromani che avevano incendiato l'auto di proprietà di una donna che era parcheggiata in strada il servizio. I carabinieri della stazione di Ficarazzi hanno arrestato in flagranza di reato un 32enne e un 31enne entrambi palermitani con l'accusa di incendio di autovettura. I militari dell'arma allertati in piena notte dalla centrale operativa della compagnia di Bagheria sono intervenuti in via Vivona dove poco prima due persone dolosamente avevano appiccato il fuoco all'autovettura di una donna del posto parcheggiata sul ciglio della strada. Dalla visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza poste sulla pubblica via i carabinieri sono riusciti a individuare gli autori del reato tempestivamente bloccati a bordo della vettura con la quale si erano dileguati dopo l'incendio. Gli arresti sono stati convalidati dall'autorità giudiziaria e per entrambi è stato disposto il divieto di dimora nel comune di Ficarazzi e l'obbligo di firma presso la polizia giudiziaria. Controlli dei carabinieri nella messinese e anche in questo caso sono scattate denunce e sanzioni. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. Nel corso dell'ultimo fine settimana i carabinieri delle compagnie di Milazzo Sant'Agata di Militello e Mistretta nel messinese hanno intensificato i servizi di prevenzione e contrasto delle condotte illecite con particolare attenzione ai reati legati agli stupefacenti alla prevenzione dei reati predatori e alla verifica del rispetto delle norme del codice della strada nella provincia tirrenica. I controlli sono stati effettuati soprattutto in orario notturno lungo le principali arterie stradali con l'utilizzo di posti di controllo e dell'etilometro. Complessivamente sono state controllate 459 persone e 377 veicoli. L'obiettivo principale era quello di prevenire il diffondersi di comportamenti illeciti tutelando la sicurezza dei cittadini e la legalità nel territorio. Nell'ambito dell'azione antidroga a Sant'Agata di Militello un giovane è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti alla procura per i minorenni di Messina. Il giovane è stato sorpreso mentre cedeva Ascici in una zona del centro cittadino. Inoltre 12 soggetti prevalentemente giovani tra i 18 e i 25 anni sono stati segnalati alla prefettura di Messina quali assuntori di droghe. Con riferimento alle condotte illecite da parte degli automobilisti i militari dell'arma hanno predisposto controlli anche nelle vicinanze di locali notturni e delle zone della cosiddetta Movida. In totale sono state denunciate 9 persone per guida sotto l'influenza di alcol con tassi alcolemici ben superiori ai limiti previsti dalla legge e altre due per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti. Questi comportamenti mettono in serio pericolo conducenti passeggeri e pedoni. Inoltre un'automobilista che si è rifiutato di sottoporsi alla verifica dell'etilometro è stato denunciato. Sono state riscontrate anche numerose violazioni al codice della strada con i carabinieri che si sono concentrati soprattutto sui comportamenti che statisticamente possono causare incidenti o gravi danni. Tra questi sono stati individuati l'uso del cellulare durante la guida la mancata osservanza delle condizioni di sicurezza per il sorpasso la velocità non adeguata la circolazione con patente scaduta o sospesa e l'inosservanza all'alto imposto dai militari dell'arma. E' tutto chiudiamo questo appuntamento con Spazio Notizia ma l'informazione prosegue su Sicilia 24. a avanti a a a a a a a Grazie a tutti.